Buongiorno a tutti, benvenuti a conferenza stampa di vigilia di mister Massimiliano Allegri. Come sempre chiedo di presentare a voi la vostra testata e di fare solo una domanda a testa. Iniziamo dal canale, grazie. Buongiorno mister, Edoardo Sidi di Juventus TV. Considerando le qualità dell'Atalanta e anche l'importanza della partita, che Juve dovrà scendere in campo a Bergamo? Io essendo cosciente dell'importanza della partita, mancano cinque partite, tra oggi e domani sicuramente sono uno scontri retti e domani sera ne sapremo di più per quanto riguarda la quota Champions. Buongiorno mister, Giovanni Albanese Sport Italia. Tra le stranezze di questa stagione c'è che tra qualche giorno potrebbe perdere due o tre giovani che potrebbero partecipare al Mondiale Under-20. In passato, insomma, per una prima squadra è qualcosa di anomalo. Le chiedo, eventualmente, per la centralità che questi ragazzi hanno preso in questa stagione in squadra, come si risolve un problema? Se è un problema o resta un privilegio per il club? Grazie. No, resta un privilegio per il club. I problemi sono già risolti. Nel senso che su Le, credo che abbiamo trovato l'accordo che partirà dopo la partita di Cremona, perché comunque ha interesse e vuole andare, mentre Hilling rimarrà qui con noi. Miretti al momento non c'è nessuna richiesta. Buongiorno, Giovanni Guardalasca e Sport. Le chiedo sull'attacco, visto che, almeno che non ci sia qualcosa, sono tutti a disposizione. Vlaovic è tornato al golo, quindi le chiedo se domani ha bisogno ancora di continuità e se ha già deciso se partire ancora con Di Maria, oppure, visto che giovedì c'è un'altra partita importante, è da gestire. Non ho ancora deciso niente per quanto riguarda l'attacco, perché è rientrato Ken dopo un mese di inattività, praticamente, tra infortunio e squalifiche. Purtroppo stava anche molto bene e ora sta riprendendo la condizione. Però Milik e Vlaovic stanno bene. Abbiamo una partita ogni quattro giorni, ormai manca 30 giorni alla fine della stagione. E comunque, come dico sempre, chi va in campo dall'inizio e chi entra, comunque, sono sempre determinanti. Anche se uno gioca mezz'ora, poi può diventare e può essere determinante. Buongiorno, mister Filippo Consigliere Corriere dello Sport. Le chiedo cosa ha visto nella squadra che le dà fiducia per questo rush finale importante su più fronti, grazie. Sulla squadra ho sempre avuto fiducia, perché comunque, a parte i momenti in cui abbiamo avuto difficoltà, soprattutto nell'ultimo periodo che abbiamo vinto solamente una partita, a parte quello di domenica contro il Verona, poi ne avevamo perse quattro. La squadra sta bene, siamo lì in lotta, è normale che bisogna fare un passettino alla volta, come abbiamo sempre fatto fino ad ora, pensare a quello che sarà la parte di domani. Poi domani sera vedremo come saremo ancora in classifica. e poi ci tufferemo nell'Europa League. Affrontiamo l'Atalanta, che se hai sei partite che la Juventus non batte l'Atalanta, l'Atalanta viene da tre vittorie. In casa comunque è una squadra forte, perché comunque è a fisicità. in questo momento è anche in ascesa, perché comunque dopo un periodo di appannamento è ritornata a vincere e anche loro sono in lotta per entrare uno dei quattro posti in Champions. Ripeto, tra oggi e domani, due scontri retti di oggi e con i nostri domani, domani sera ne sapremo di più, soprattutto sui numeri. Buongiorno mister, Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Negli anni passati di questi tempi c'era una domanda che veniva fatta quasi sempre ai suoi colleghi del Napoli, era cosa c'ha la Juve in più? E la risposta quasi sempre era il fatturato. Mi vengono in mente soprattutto le risposte di Sarri e di Benitez. Adesso che il Napoli ha vinto lo scudetto con un fatturato inferiore, con un montengaggio inferiore e con una rosa meno titolata, secondo lei è per quello che la società Juventus sta pensando così tanto a Giuntuli come nuovo dirigente e secondo lei basterà a Giuntuli per ritornare al successo nel caso? Io l'ho già detto la scorsa settimana, ci sono 30 giorni molto importanti che sono quelli che ci portano a fine stagione. Poi il 5 giugno la società deciderà cosa fare sulle scelte di tutto, a 360 gradi, ma fino a che non si arriva al 5 giugno è inutile parlare di quello che può arrivare e di quello che non può arrivare, sia da giocatori, dai direttori sportivi. Poi non sono, ripeto, la scelta del direttore sportivo non è una cosa mia, è una scelta della società che dovrà fare, se la farà, con chi la farà. Quando poi avranno scelto me lo comunicheranno. Salve, Odenino La Stampa, però tornando un po' sul discorso invece di cosa ha avuto il Napoli in più, visto che ha vinto lo Scudetto, è ufficiale e matematico, qual è la risposta? Cioè dove è che è stato bravo il Napoli rispetto non solo alla Juve ma anche alla concorrenza, perché effettivamente il distacco è ampissimo, come una volta accadeva alla Juve. Grazie. Quando una scuola vince vuol dire che ha dimostrato di essere più forte. Poi tutte le stagioni non sono uguali, ci sono le stagioni in cui ti capano delle situazioni che ti vanno contro, delle situazioni che ti vanno tutte a favore, però il Napoli comunque ha strameritato questo Scudetto nei numeri e in tutto quello che ha fatto. Ecco, però tutte le stagioni sono diverse, quindi l'anno prossimo sarà sicuramente un'altra stagione. Però ripeto, per quello che hanno fatto, li ho già fatti e le ho ripeto, c'è da fargli i complimenti. Buongiorno mister, Alberto Mauro, il messaggero di Juventus News 24. Le chiedo se dopo i buoni segnali che ha dato Pogba ha ancora degli spezzoni di partita nelle gambe o può giocare dal primo minuto? Grazie. Pogba ha fatto buoni 20 minuti finali l'altro giorno, è normale che è un giocatore diverso come tecnica, come fisicità. Purtroppo però, ripeto, per lui questa stagione è stata una stagione, tra virgolette, maledetta perché dalla non operazione all'operazione dopo, a tutte le situazioni di mezzi infortuni che ha avuto, siamo arrivati a questo punto a 30 giorni alla fine e quindi devo cercare di sfruttarlo nel migliore modo possibile perché dia una mano a questa squadra. In questo momento qui, che uno gioca i 20 minuti, 15 minuti, 60 minuti, non conta niente. Ora l'obiettivo è quello di entrare nelle prime quattro, momentaneamente siamo terzi e mancano cinque partite, e cercare di centrare la finale dell'Europa League. Poi, una volta chiusa questa stagione, l'anno prossimo sarà totalmente un'altra stagione perché le stagioni cambiano e quindi le annate cambiano, quindi ora bisogna stare tutti concentrati su quello che dobbiamo fare. L'ho detto anche la scorsa settimana, in questo momento gli obiettivi personali non contano niente, ora c'è solo un unico obiettivo che è quello della squadra, il resto non conta niente. Quindi i ragazzi, come l'hanno dimostrato anche domenica, devono essere tutti a disposizione chi fa un minuto e chi ne fa 90. uguali, perché sono tutti importanti allo stesso modo, e lo ripeto, quando si arriva in fondo e si ottengono dei risultati, non è che uno è stato più bravo dell'altro. Buongiorno, Alessandra D'Angio, Rai Sport. Visto che le chiedevano prima che cosa ha avuto in più il Napoli in questa stagione, invece le chiedo che cosa ha in più la Juve, secondo lei, rispetto alle altre, in che cosa è diversa in questo rush finale decisivo per il posto in Champions in Europa? Non so cos'è diversa, so solamente che noi stiamo cercando di fare dei punti che ci servono per arrivare nelle prime quattro. Ci sono degli scontri retti che sicuramente condizionano il numero finale per arrivare in Champions. Già da oggi si può capire se la quota Champions è 72 o 73. Momentaneamente a 73 è matematica. Per forza, a 73 è matematica. A 72 secondo me ci sono ottime possibilità, però dipende dai risultati di oggi. Quindi da lì si scappa. Non vi sto a dirvi i numeri, se no va a noio, però è quella lì. Ultima domanda, grazie. Buongiorno Paolo Pirisi, Tutto Sport. Le chiedo se la festa di questi giorni del Napoli abbia un po' punto nell'orgoglio la squadra e se questo aspetto possa rivelarsi decisivo anche nelle vostre corse finali. Grazie. La squadra è sempre punta nell'orgoglio perché comunque quando sei alla Juventus che comunque storicamente lotta per tutte le competizioni è normale quando ora è il terzo anno che non riusciamo a essere competitivi per il campionato è normale che l'anno prossimo la Juventus deve comunque tornare a essere competitiva e cercare di lottare il campionato che poi non è facile perché comunque vince una cosa straordinaria. E quindi su questo non c'è nessun dubbio. Poi dopo è normale quando vedi vincere gli altri ti viene ancora più voglia però questo fa parte del gioco e quindi bisogna, ripeto, fare i complimenti per quello che hanno fatto. Noi bisogna pensare a quello che dobbiamo fare e vuol dire cercare di giocare la Champions l'anno prossimo e abbiamo due strade, o i primi quattro posti o la vittoria dell'Europa League che non è assolutamente facile. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Buona giornata.